e ciao a tutti i colors e benvenuti in questo nuovo video allora ho preso una piccola decisione per il canale mi era rimasto un altro video però cominciava già a essere vecchio ragion per cui l'ho cancellato e ho deciso che perlomeno fino a quando non dovesse essere più impegnato di adesso cercherò di fare un video settimana e nel frattempo di farvi vedere quello che ho girato la settimana prima spero di essermi spiegato per cui ho cancellato il video super vecchio che rifarò tant'è che voi non saprete manco qual è e oggi ho scelto di rifare perché l'avevo già fatto ma era rimasto appunto troppo indietro il friendly tag cioè il tag dell'amicizia creato da ombretta di cui vi lascio il link al canale anche se sono certo che soprattutto il pubblico delle signorine già la conoscerà e sono stato taggato dal mio Garo Garo, Luca non esiste, dico Garo perché lui è un adottato romano, mi è innamorato di Roma ormai si potrebbe definire romano anche se purtroppo il certificato di nascita dice altro che ha azzeccato moltissimo questo tag perché a me come sapete non piace farne troppi però ci sono degli argomenti che comunque se mi colpiscono e danno priorità rispetto all'altro tag che ho ricevuto ho scelto di farlo anche perché voglio salutare e poi magari parlerò anche di alcune persone anzitutto voglio ricambiare lo sponsor che mi ha fatto il mio nuovo amico virtuale Deni ma spero non solo virtuale che ha un canale ASMR quindi l'invito è rivolto a quei pochi dei miei iscritti che apprezzano l'ASMR lui si chiama TipTap ASMR e vi lascerò il link del suo canale in descrizione e forse anche come scritta vediamo se trovo una cosa del genere una cosa decente e non del genere vabbè poi volevo salutare i miei ultimi due iscritti che sono due amici che conosco di persona da pochissimo di cui magari parleremo dopo però intanto mando un bacione enorme a Fabio ed Enrico ti voglio bene ma iniziamo col tag perché altrimenti viene un video di 40 minuti e poi mi bisticciate perché faccio video troppo lungo domanda numero 1 chi trova un amico trova un tesoro cosa ne pensi di questo detto? santa verità poche volte veramente mi sono sentito voluto bene in questa vita e in quei momenti ho sentito di aver trovato un tesoro il concetto di amicizia per te vuoi parlarcene? allora parto dal presupposto che secondo me è un concetto abbastanza personale e sono il primo a dire che il mio è un po' fuori dal mondo l'amicizia e forse è anche per questo che faccio difficoltà a provarla negli ultimi anni però secondo me anzitutto il primo ingrediente dell'amicizia prima ancora è la sincerità stessa e la spontaneità nel senso che se deve essere sempre l'altra persona a cercarvi forse non vi sta tanto simpatica innanzitutto se si fanno troppe aspettative forse c'è ancora qualche passo in avanti da fare e per questo sto facendo anche un enorme lavoro su me stesso poi per quanto mi riguarda personalmente ci deve essere anche un minimo di fisicità perché è vero tutte quelle pappardelle che è meglio dimostrare quei fatti eccetera eccetera però un abbraccio un abbraccio con cosa lo vogliamo sostituire un bacio perché no perché non esistono mica solo i baci di coppia sulla bocca ma è un bacio sulla guancia con cosa lo vogliamo sostituire ragazzi miei cioè parliamone quindi spontaneità un minimo sindacale di fisicità sincerità anche perché no non va mai dimenticata e soprattutto ragazzi si vede nella tempesta nell'amicizia perché è troppo facile essere amici di una persona che sta bene che è soddisfatta e realizzata sempre è fin troppo facile lo so che si attira di più le persone così però chi non ha bisogno di essere consolato alzi la mano mai domanda numero 3 pensi di essere un buon amico? perché? Fabio, Enrico, Marco, Danilo Ambra, Federica e compagnia sono un buon amico quelli che possono commentare rispondono ai commenti no a parte gli scherzi io penso di avere da dare ok? penso di avere da dare sicuramente tutto sta anche la ricezione dall'altra parte ok? perché magari ci sono persone per esempio che non sono fisiche per nulla vanno rispettate come vanno rispettato io con la mia fisicità nel modo di fare ci sono persone che potrebbero far intendere come dire la mia propensione a parlare la mia logorrea alcune battute perché magari non sono bravissime a farle penso di sì linea di massima però è una cosa che secondo me bisogna chiedere agli altri quando per la prima volta hai avuto un vero amico il vero amico che ho avuto per la prima volta si chiamava Francesco dico chiamava perché purtroppo non c'è più da circa 12-13 anni perché non mi ricordo quanti anni avevo esattamente quando ho conosciuto e l'ho conosciuto durante un viaggio a Lourdes quando ero ancora credente e purtroppo è morto dopo circa due anni in una malattia formolare non so bene quale però per me è stato un vero amico perché l'ho avuto per sempre credi che ci sia l'amico del cuore? sì credo che ci sia l'amico del cuore che non tolga nulla agli altri ma che per la sua unicità sia anche insostituibile chi è il tuo più caro amico? allora in questo momento le persone fortunatamente a cui tengo di più sono non c'è non c'è un'unica persona a cui tengo di più ecco non sono l'unica persona a cui tengo di più prima di tutto ci sono quelle tre storie proprio per per questione proprio di anni che ci conosciamo che sono Patrick Federica Miriam poi quest'anno ci siamo ritrovati con con Danilo che avete già visto nel vlog magari vi metto qualcosa nelle schede e dopo qualche mese è arrivato Marco che mi è entrato subito nel cuore come l'amico poi invece parlando di di persone più recenti ma che ho già nel cuore quando io ho sospeso il canale per un mese ho avuto modo di legare molto con Ambra Stella che saluto e alla quale mando un bacione grande alla mia sorellina ho avuto modo di legare molto con Ambra Stella e oltre ad Ambra Stella diciamo che ci sono vabbè svariate conoscenze candidate a diventare amicizie ma le altre due che si sono aggiunte nella realtà da pochissimo sono quelle altre due persone che ho nominato prima e cioè Fabio ed Enrico che io considero amici anzitutto perché penso che una tappa prima o poi debba essere conoscersi di persona e fortunatamente Roma per me non è lontanissima e ci siamo riusciti poi in questo in questo unico incontro per ora ci siamo trovati molto bene l'uno con l'altro proprio a livello di come dire affinità intellettuale per cui per me anche se sono nuovi amici però sono comunque amici e questi poi come ho detto prima ci sono molte persone con le quali sto legando piano piano spero che ci conosceremo anche di persona anche perché la maggior parte si trovano fra voi iscritti e quindi vi saluto tutti e passiamo alla prossima domanda perché sto parlando troppo domanda numero 7 l'amico si vede nel momento nel bisogno sì come l'ho detto prima è troppo facile essere amici di una persona che sta sempre bene alla quale va sempre tutto bene è molto più difficile stare vicino a una persona quando è triste quando si sente sola abbandonata perché magari come me hai proprio amici a distanza no? e quindi la solitudine si sente di più è proprio nel momento del bisogno quando le persone non ti abbandonano quando magari ti fanno anche piangere se necessario che tu vedi chi chi è amico davvero cosa ti aspetti da un amico? mi aspetto di imparare a non avere aspettative se poi si intende la domanda su cosa vorresti da un amico allora il discorso cambia cioè innanzitutto io sono una persona molto fisica come ho detto quindi ho affinità con altre persone fisiche anche se rispetto insomma il punto di vista di tutti poi percepisco l'amicizia dal momento in cui posso essere me stesso quindi sia raccontare quelle che sono un po' le mie cosine e sia comunque avere la spontaneità fatta per ridere per scherzare per fare battute cosa che con una persona non amica non riesco perché magari mi sentirei osservato o giudicato sapevo che avresti raparlato quindi vi chiedo perdono se questo video sarà lungo e non l'ho detto all'inizio lo dico adesso dicevo che non riesco naturalmente a scherzare quando non c'è un'estrema confidenza perché nessuno mi conosce può capire le battute ecco cosa sei disposto a sacrificare per un amico vi darò una risposta scontata il tempo ma attenzione se siamo amici il tempo non è più un sacrificio sono io che voglio darti il mio tempo perché con tutto il resto dell'umanità sono geloso del mio tempo io non provo gelosia per le persone provo gelosia per il tempo però non c'è cosa più preziosa che io possa dare del mio tempo questo è il senso della mia risposta cosa non sopporti e quindi può rovinare un'amicizia le parole non dette soprattutto quando non c'era nulla che impediva di non dirlo mi spiego impediva di dirlo se non mi si dice una cosa perché in quel momento crea frustrazione tristezza eccetera quindi si vuole aspettare di star meglio questo non rovinano amicizie se invece si aspetta il momento propizio per vomitarmi addosso cattiveria quella la rovina un'amicizia e anzi ti dimostra che non lo era mai stata l'amico è colui a cui raccontare tutto ma tutto tutto ma proprio tutto sì sì perché se c'è pudore forse manca qualcosa per parlare ancora di amicizia lo può testimoniare particolarmente ambra con i nostri discorsacci su whatsapp per i quali a volte mette le cuffie perché sennò temiamo di scandalizzare insomma la sua famiglia mamma sei mai stato un amico non corrisposto ne vogliamo parlare ne vogliamo parlare no facciamo che non ne parliamo facciamo che ne ne parliamo la cosa più brutta volontaria o no fatta ad un amico oddio che ho fatto? non lo so non lo so sicuramente l'avrò fatto perché non sono un essere perfetto nella maniera più assoluta non sono perfetto sicuramente l'avrò fatto però non lo so veramente non lo so si può perdonare un amico per un tradimento ricevuto? allora di solito se io ho rotto un'amicizia vuol dire che proprio non era il caso di mi è capitato di gente che mi ha chiesto scusa io le ho accettate e fino adesso ho fatto bene ad accettarle molto raramente però e attenzione la gente preferisce sparire le grandi linee credi nell'amicizia? sto notare il genunchio sto ricominciando mi piace pensare che le persone grazie alle quali ci sto ricredendo mi aiuteranno ad essere ancora più sicuro della cosa il tuo segreto per essere amici in una parola che si aggiunga a quanto ho già detto esserci 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 da entrambe le parti però attenzione non una cosa univoca altrimenti non è amicizia è un usare che è una cosa brutta che è diversa prima di tagare che è l'ultima parte del video volevo dire che ho scelto di fare questo tag perché come alternativa al blog perché effettivamente mi è piaciuta la motivazione che Fabio ed Enrico mi hanno dato quando ci siamo conosciuti e cioè che si sarebbero sentiti un po' un po' costruiti no? io l'ho accettata questa cosa perché si sa ci sono tutti costruiamo un po' costruiamo un po' la la nostra immagine nei video perché? perché alzi la mano chi fa i video quando è triste e dell'elitto ce l'ha col mondo anche questa è una costruzione spero però di aver reso minimamente giustizia a loro ad Ambra e tutte le altre persone che ho nominato facendo questo video vi ricordo che in descrizione trovate il link del canale di tiptap smr dani al quale ho ricambiato responsabilizzazione inizio video e adesso tagliamo ragazzi io non ho molte idee per taggare per questo video sono sincero però mi ricordo che per esempio c'era cristal che mi aveva chiesto di essere taggata quindi cara cristal ti taggo in questo video vorrei vederlo rifatto da te e poi non lo so se l'hai già fatto Caterina comunque voglio taggare anche te sono Tina F e poi mi è venuto in mente mentre ci pensavo voglio taggare Betta e Bonny proprio nel vero senso della parola non solo Betta non solo Bonny Betta e Bonny quindi altra tag rigoppia se vi va di farlo se vi va di rifarlo sono un altro Betta e basta così ragazzi il video finisce qui cercherò di non farvelo durare troppo se così fosse perdonatemi e io vi saluto vi mando un bacione passate da tip tap quelli che amano l'SMR gli altri non passate non mi scrivete critiche nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video ciao